mancano poche ore alla notte più attesa nelle case al caldo tutti aspettano l'arrivo di babbo natale anche chantal e vanessa nella loro casa stanno aspettando nel frattempo si siedono sul divano sedute sul divano chantal e vanessa sedute sul divano molto bene ehi l'alberello si è illuminato è arrivato babbo natale vi ha portato un bel sacco pieno di regali è vuoto è vuoto va beh non preoccupatevi c'è una spiegazione babbo natale vi vuol portare in lapponia vuole essere aiutato eccoci nel suo laboratorio ora con la magia cercate di riempire il sacco attirate a voi i regali forza bene bene eccoli bravissime ancora un po perfetto siete magiche ottimo lavoro adesso ferme lì perché anche babbo natale vuole mostrarvi la sua magia 12 no ma no babbo natale siete diventate delle galline presto sbattete le ali per tornare come prima forza ok bene molto bene ma no sono troppo piccole babbo natale chantal e vanessa stanno protestando vogliono tornare normali babbo natale oggi si è un po birichino bene adesso però andiamo fuori a conoscere rudolf eccolo qua che sta arrivando rudolf è una renna molto affettuosa e vuole sempre tante coccole sapete a lui piacciono i pupazzi no i pupazzi di neve cosa avete capito forza coccolatelo poverino babbo natale che ne dici facciamo un pupazzo di neve rudolf ma si dai un bel pupazzo di neve rudolf stanotte dovrà fare un gran lavoro forza chantal e vanessa una bella magia e 1 2 3 eccolo bravissime chantal e vanessa siete veramente magiche ma cos'è successo oddio cosa succede oh no avete sbagliato la magia il pupazzo è cattivo attento alle palle di neve schivatele attenzione oh no oh no cosa sta facendo il raggio congelante ecco lo sapevo siete bloccati nella prigione di ghiaccio presto cercate di romperla forza forza ecco bene ce l'avete fatta ora siete libere adesso però dobbiamo sconfiggerlo cercate di preparare un bel raggio arcobaleno e al 3 sparatelo 1 2 3 bene via bene raggio arcobaleno e unicorni forza forza dobbiamo sconfiggerlo dobbiamo farlo tornare un pupazzo felice brave ce l'avete fatta avete salvato il natale speriamo sia sufficiente con quel pupazzo fate bene ad essere felici senza di voi babbo natale non ce l'avrebbe fatta e adesso che tutti i segreti del natale sono stati svelati è giunto il momento di consegnare i regali bravissime e ora in piedi tutti vi applaudono avete salvato natale una bella foto ricordo e fu così che chantal e vanessa salvavano il natale